Salve, il mio nome è Maria Grazia De Seta, sono insegnante diplomata Midas in Danze Orientali. Siamo nella scuola di Giulia Mignieco, che ospita me e il mio gruppo d'Oriente, nonché danzatrici orientali, tra virgolette denominate del ventre, in maniera in forma un po' riduttiva. Che dire, questa danza è una danza al femminile, è una danza spirituale, è una danza che rinnova l'anima, è una danza che rinnova lo spirito, ma soprattutto che ci fa sentire delle idee, proprio come io dico sempre alle mie allieve. Infatti la scuola, non a caso che ci ospita, è la Sharassad. Sharassad, colei che riuscì a non farsi mai uccidere dal suo marito, pur essendo la settima moglie, proprio perché lei doveva fargli capire il significato della vita, del materno, dell'interiorità, del ventre, della purezza, dello spirito di noi donne. Quindi io consiglio a tutti questa disciplina, ma soprattutto consiglio di volersi bene, di amarsi, perché la vita è bella proprio per questo, perché varia. Noi siamo donne, siamo coloro che creiamo, la mia danza mi insegna che tutto parte dal di dentro, dall'ombelico, dalle viscere, è qualcosa di interiore, è qualcosa di magico, di mistico. Un po' come la luna, fatti i nostri movimenti, l'infinito, l'otto, i lift, i drop, elevate a Dio, appartenenti alla terra, proprio perché si schiacciano questi passi, proprio per sentire il terreno. Se vi è piaciuto, vi ha incuriosito quello che vi ho appena detto, vi aspetto con un abbraccio enorme per vedere la nostra esibizione il 21 dicembre del 2016, alle ore 21, al Festival della Danza organizzato da Giovanni Grasso Caramella, Festival Sport Danza e Benessere, proprio come la nostra disciplina, la danza orientale. Un bacio a tutti. Grazie a tutti.